bella ragazzi non so vai a vedere ecco abbiamo ancora zero vedi vedi se sto e ci sente ci sente ciao non mi senti e l'ho fatto male bro la prima live una cosa dove stai ma no è vero dove andare certo gioco ok ora sai ora non ti sento dove sei blu vedi ando stanno al battere la strada l'arrabbi come si è fai tutta brava so vishino valla no bello da tutti i ragazzi l'avviso però non fa la brutta cosa non ok 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 ora ci sentono tutti bella a tutti ragazzi ragazzi ora facciamo la bella ora battiamo francese a vincenzo male siamo con vincenzo con male le stasi grazie ragazzi se mi vedete sono un pochino scassato ma gioco da una settimana e tre giorni dal la matematica spiega ho usciuto poi c'è la bella 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 bro ma non c'è nessuno può parlare ragazzi non si vedete questo scherzo sono sempre scherzo però perché io gioco da pochissimo e troverà giossi perché ho semplicato a maus e tassiera per la mente abbiamo fatto cambio eh sì tra meno visi io non sento nessuno mi sento la ramea ma è vero se va giuto per vedi sì sì l'ho già visto e secondo te non l'ho visto dove stai l'ho visto che non ti vedo ma si fra però sto nascosto è perché non voglio prendere l'ho già su su l'ho già mi busci lì ecco lì io sopra ho pusciato secondo te yes oh 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 bella 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 tra bene quello che valgono si oh dicetto vediamo che lascia like vale la lascia like lascia like e scriviti scriviti buona lascia anche scriviti del corso rosso le cose il corso rosso ricca sopra però lo sto facendo quale viola 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 sopra si bella 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 c'è brava oh my god che vuole questo vitti si oh oh dai fatto l'ha fatto quasi scritto a canale oh 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 qua oh c'è la chatte da via già via iscrivetevi tutto il canale lasciate un bel like che domani forse la facciamo un'altra c'è da lei che scrivevi sempre al canale grazie bro non c'è da lei non c'è da lei non c'è da lei non puoi parlare pure con il tuo fratello tanto non c'è nessuno a salve bella 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 ragazzi questo bel bimbo da pizzo va non è bello sopra di saggiorare il romanzo sia un bomba eh sì lo fai il cecchino si è fortissimo vabbè no lasciate un like se si è fatta col cecchino oppure lasciate un like che è più bravo a costruire tra me e lui ma per me lui è più bravissimo e lasciate un like se per voi se lui è bravo faccio un like e iscrivetevi al canale adesso mi do 4 minuti 4 secondi per iscrivervi al canale stoppate il video e vedete stoppate la live e vedete il video potete iscriviti e un bel like ragazzi ragazzi se volete un altro video con vincenzo minimo un like sì lo faccio questo perché la prima volta che ci siamo la live siamo felicissimi quando ci sente quando si sente quando uno fa la live bellissimo è felicissimo sa madre quanto ti ho sfiorato bella oh 132 entrano la pusciano questo bel bimbo bella 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 non fanno a sentire capito il bambino raga non lo so provate potevo farla live e vedete se è felice è il vostro primo live poi il vostro primo video però voi faccio di vita normale questo da live in diretta no come questo bimbo si nasconde sempre il k1 apparete se cerchi nodo è vero mi senta non lo sapete vincenzo è un fratello è fortissimo con il circo il prossimo video lo facciamo io faccio schifo però a vicino faccio schifo di cerchino solo quando mi vede quando è il sabato e lo cerchino che faccio però lo so raga che non so bravo che può e non siamo tanto forti scusa scusateci però sapete io andavo una settimanina bella tra le persone da cieco oi fai no lasciate il like di questo c'è tirata per piaciuta lasciate il like se non vi è piaciuta aggiungiamo più like che possiamo almeno 10 siamo contenti pure di uno perché la prima volta c'è già tra di certe che vediamo 198 specialmente la vita c'avevo bella però bella giocata cioè è vero che c'è vendita di vita di credo di vita io cambiare un po' mappa ok e quale mappa mettiamo? guardate voi raid eh per me va bene se guarda la mk mettiamo box facciamo un minigame come è il minigame non lo so in box andiamo no no ora faccio vedere un minigame ok ok ragazza dicete questo è scemo che non sa com'è che cos'è ma raga non lo so bella bro allora che cos'è questo non lo so ma ve lo spiega al mio compagno per vedere che cos'è ok come vedete lo so i due amici è vero? sì ora qua non dobbiamo far ballare a lui in centro e lo dobbiamo fare andare via chi balla di più vince mi devi mettere già un po' sotto a me sto vincendo no bro mi devi sparare via perché non mi devi far ballare qua guarda ve lo so accorto eh sanno le ballerine no 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 e voi veni a ballare pure tu no il viaggio mi piace lasciar attra o no ci sono diversi cose non c'è solo questo mi piace proprio è guarda per finita magari abbiamo una guarda guarda mi piace e un minigame ora con il punto ok ok per attaccare la sola che tu scoperto voi fare se avete delle trappole ora fa un po di rumore del coraggio bella bella prova che abbiamo permettato il bello a scondito dice lei e non c'è qua dobbiamo raggiungere la fino come la fila è cosa che ti vuole a mettere ok 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 giusto è vero c'è dolbo family no fai difficile mai pensati che fosse facile e qua e qua e qua e qua e qua e quello è bello no vado di qua o prendo vado di qua di qua no bravo non ce la faccio è troppo difficile bravo dammi al centro ora io e c'è vabbè c'è vabbè c'è vabbè c'è vabbè prova a mettere un'altra mappa metti qualcosa ma nella sua sorella vabbè comunque sto facendo la live mettete cristiana c grande staccato stasi e live e vi compare e live bro mettiamo una bella box box oh caraga però potete dire che non sei tanto forte in box vabbè allora facciamo questa vieni qua facciamo questa qua del creatore di questa isola questa è che ma pebbio è che ti scegli tu le armi premendo il bottone come mi vedi stanno le armi se premia i bottoni cambia arma e fra me lo so le armi che fanno diciamo stupo eh ma se tu premia il bottone che sta vicino ah ok passate per il bottone ah si 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 ah non lo voglio aprire no mi sta paura senza mi tagliato facciamo sono pure vari cecchini sai prendono prendiamo i tuoi cecchini sai sempre devo buttare un cecco e deve stare i cecchini il silenziato per andare fuori sta con la fontanella d'acqua no quella si vai la e va ciao 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 chi sta evaristo iscrivetevi al canale e mettete un bello accorso e buona andiamo della vai ecco di 100 si 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 so 70 volte non sono una volta mi è messo tanto e non anche 150 vi aspettate lascia V** vama lasciato un like se si sas sono infame grazie grazie c trois volte si Vä si ci ポ oh lanciato oggi a capo di liberare una linea il pro nocide il brodei non lo sa di qualcosa aveva riuscito ho fatto quando si è sfruttato duecento di di ragazzi sapere chi sta guardando la live può scrivere un commento c'erano che addirittura vuoi fare una b1 contro di me si gioia ma mai set a sera non ci crede via non si vede niente ma tu lo sai proprio tu ho visto cacchio no no oh mamma bella bro bellissima ok non si fa se non si fa se non dovrei ho fatto bene lo spazio e vogliono fare questo bellissimo game ma è bello e brutto raga scrivete nei commenti yes per me la mia arma è il mio compagno carino e mi ha fatto preferito del famas e il check hobo babo guarda le pompa razza come vedete c'è pompa scarichissima il lino bo grazie gelli grazie a me brava chi sta ai commenti eh caso mai do ti condivido la live qua la prossima volta così per vedere credo che possano vedere pure loro e tu con me giochi però non so dai che faccio schifo vedete che non so giocare è buono grazie grazie almeno sto migliorando la realtà è che mi sto dicendo così tanto gentile no ma io tengo tutto scarico e mi devo credo c'è pa pa scarico no tempo pa scarico ma chi che grazie guardate dal sarebbe il pro chi sarebbe sono da voi oh tu mi coppia sei morta eeeh bella bro eh la cotta i miei primi tre spettatori sono un mostro e chi sono questi tre spettatori però peccato che sono tutti i miei amici 1v1 giro vabbè nooo ho fatto 200 ma che l'ha scritto i commenti sì ok comunque è troppo bello sì è bello sì è bello è bellissimo ma come cazzo da adesso è la mappa a voi ha detto la geni 500 500 io sì ciao guarda come vedete questo bello ragazzo sono sciotta ecco facciamo uscire sempre data evani ti invito ma se mi uccide mi arrabbi o malamente ma come mi fai uccidere raga raga ma guardate io c'erano 40 di vita e non c'erano povermi si guarda di queste sorte ragazzi ci conto di questo certo no ma come lo pensate la sveglia da fortnite per la raga questo è certo cazzo della città bello non si vuole non ho fatto tanto in testa va bene come ti chiami e l'ambio sai cosa di essere amico mi chiero scala ma guarda che mi ha da benissimo bravo i piccoli crescono in fretta l'ho visto la bella prima di aver detto le cure voglio essere uscire un po di cucina era finita no no i shit ragazzi che dei commenti ci sono forse ero bomber 99 ok su heavy game qual è il tuo video aspetta bella bro bella bro bella bro bella scrivimi tu su epic game gp grande punto kx no aspetta trattino basso ok se lo avrei giro scaramello ok ok voi ci seguite noi andiamo pure il caso per giocare live ci sarebbe la play no e così è così però ora speriamo di fare speriamo che possiamo giocare sì la so sta giocando con me vincenzo come cacchio fai raga come caccio fare come cacchio fa raga no vincitemelo voi evitato evaristo ora ci vediamo da qua c'è una fila di becca ma io a questo ragazzo evaristo solo di prima quello di prima bravo ok bro comunque questa grecia lo so che però però mi faccio vi faremo divertire no no vi serio mi rò più o meno un'ora e mezza sì sì infatti questo qua è il mio prima cosa però c'è una chiesa ora ragazzi va da rumore non è stato vedendo live così da questo ragazzo è verissimo così lo salutiamo da come vedete se voi giocate come si dice sicuramente perché ora quanti siamo 3 sempre a voi io l'ho abbandonato giusto a voi questo io mi sento di tempo no come è fatta di testare tutto che è il risultato l'esterno alla ricetta sì come vedete questa che sal è il nostro amico no ma è stato inserito raga raga non si è abbandonata noi andiamo a fare una perché la pubblica e facciamo box pvp è pubblica no no facciamo pvp facciamo 3 di noi abbandona un attimo non tornare alla lobby sì non ho fatto non lo cazzo io mi ho fatto di non comprare che se il live si tiene tiene 42 spettatori no ma chi mi scommesso tutto ah ok broma dove stai devi abbandonare devi abbandonare no ma è pubblica non mi piace da abbandonare la modalità creativa sì allora ci facciamo giusto la squadra sì guarda lo shop mamma mia ora guarda quanti bacca sei pronta a vedere così tanto io skinno madre quanto skin hai bro 1 2 3 4 5 6 7 8 mamma mia sei ricco comunque raga vedete questo video fino all'ultimo non ti lamentare che io ne ho una la matrice le ballo ma che tende ritengo ma io poi non ho mai sciopato questo che è 2 fa questo che me l'ha regalato e questo metti il squad raga mettete il squad no no mettiamo il squadro e questo me l'ha regalato squadre raga squadre squadre raga squadre raga la battiti squadre vabbè vabbè mettiamo riempio o non riempio o io di certo cosa squadre 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 vediamo se c'è qualcuno all'anno che possiamo invitare ah raga vabbè non c'è nessuno all'anno non c'è nessuno sono solo due compagni di me sono una femmina e un altro un po' in basso ragazzi comunque la venitemi a vedere nella live mettete like e iscrivetevi al canale e nome del e qua scrivete i nomi scrivete i nomi scrivete i nomi no allora allora scrivete i nomi come vi chiamate sopra la play così noi la sceltiamo ve lo mandiamo l'invito ragazzi vi potete venire a vedere nella live mi chiamo christian spazio stasi c'è grande se è piccola e scrivete christian stasi live vi lascia a me mettete like e iscrivetevi check al canale bro ragazzi se vuoi se mi potete dire come mi chiamate così la prossima volta oppure ora giochiamo insieme andiamo online insieme al bro se poi volete fortemente mi da i permetti di fare i server privati non lo facciamo solo quelli in live ci possiamo fare i server no decente iscritti insomma credo raga arrivavamo a me due iscritti per giocare dove andiamo a borgo a parco pacifico andiamo a parco pacifico parco pacifico andiamo a parco pacifico parco pacifico parco pacifico parco pacifico parco pacifico tutti spettatori guardi cerchi da pori di fare i pali non ho preso un nostro io una volta ho fatto uno kg quando No, 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 è vari, è vari, fidati, lui è molto più forte di lui, sì, bro, fidati. Ho fatto pure prima 330. Eh, non è niente confronta lui. Eh, lui fa 300, 400, scusate. No, bro, veramente, lui è troppo forte. Allora, io anicchino, io anicchino, robo. Scusami, sono questa, io a dire. Pensa, fatti, ti metti la macacchicchina, eh? Come vuoi. Avete lo porto con il cerco. Avete del storero? Dica, come vuoi. Ma se ne vado parli, per quello, appunto, palle po', lo apparte per lo buttato. Raga, tenete. Adesso, lo vado a prenderla. No, 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 non ho caso si fa già un tattico. Tattico già. Eh, vabbè, vabbè, fra bianco colo e l'ha lasciati qua. Io così come se, qui c'è un butto di colpi. Oh no, no. Ti divide colpi? dai dai uscita questo scagliazzo che c'è a vivere di barrette con più barretta da la un attirato un attorno del ciocchino raga dove c'è un attimo le impostazioni raga raga dove facete curare perché ho trovato una cicchino ma butta le bombe hanno curato un ammattato un ammattato un ammattito ora faccio sempre eva lì ma la faccio non mi faccio decidere volte bene vedete subito è un posto e volete non c'è sotto il timore a coltivo c'è bar e te dai uno l'ho ammattato aiuto no vado a me questo è passato lo giro si è morto tra raga io non tenevo perché stavo mettendo le spostazioni e perché le devi tolta raga comunque è tornata un accio ci sono un cerchino ma io tu un po' del nome ciro ma che cosa ma io non tenevo manco il pompa bravo pigato il pompe si tu che non sei venuto a prendere a chi va a noi eh no io sto mettendo in questa azione e bollano farebbe se avete visto questa partita avete visto sbagliato perchè non iniziamo a giocare Flora è tutto a parco? si si mi piace perchè a Borgo si può troverci di loro ci stai a parco? raga? ehm io ancora non vedo la mappa però andiamo a siepi raga no raga a siepi non mi piace perchè a siepi non ci trova niente come l'urto ma ora invece si si trova niente ma ora si trova niente come l'urto assieme andiamo a siepi assieme a Borgo scrivetelo nei commenti si è di siepi a Borgo no si è di siepi si è di siepi si è di siepi allora va a siepi ma bene che c'è più gente più divertente ehm ciro dopo che raga dopo ci spostiamo di questa casa questa casa si fa lutto in questa questa la gara giuco dopo raga verrà giuco dopo ha capito rinforzato rinforzato andiamo tutti qua non tutti qua vedi no andate per la e viaggiù dopo andate io vado con i vari saperi ripa un po' blu me lo prendo no è un assalto no è un po' no minchia che sono le gennaia ma bruno siamo dei po' player ah bro io bravo c'è un po' bambi 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 no no non spari ha 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 che fortuna raga raga città città c'è un po' ebbene poi venire subito perché chiediamo due vi capito due visco due visco per valutare la stragazione tengo conto e allora andiamo in quella non la leggenda quale è questa eh sì che sparano trovate il pompa ok oppure io io l'avevo bianco rotto blu minchia però che culo eh eh scusa raga ho scelto per prendermi ora c'è lo blu non verde ma blu raga allora io lo butti il pompa verde ah bohio io ho il singolo però e lo butto lo buttare il pompa verde raga scrivete le pompa verde si questo è brutto si questo è il culo non è il culo che ho trattato questo ma io ma perché sparo a volte ma lo so che è morto grazie niente dove dove io so cerco di venire però non credo non lo faccio con la fissata ti prego la scuola io mi ho fatto 100 con il fatto dai avevo vado insieme non mi dicevo niente però non mi dicevo niente vieni 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 come ragazzo faccio dei sottotipo non ce la faccio no 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 ma perquisito tu vieni se riesce prendici la scheda non ci credo la cattolpia è una pompa di creativo ti vede questa è un attimo vieni è beccio è beccio bro bruno perché io sono sciamo che sono andato con la pistola invece che col pompo hai stato sciamo tu bro eh ti vede fortino questo però per te ti nello spazio se te lo giochi bene vinci ok no ma ci sono quello stesso saprano da dietro se mi sbaglio si ecco ah andiamo a 100 infatti saprano quello da dietro e mandiamo la partita e andavano alle robbie e le facciamoci l'ultima no vabbè adesso tocca alle robbie è preso box il giallo che è imparso sette vieni i vieni vieni a vieni ah guarda scusate ragazze e ragazze e ragazzi iscrivetevi al canale gp tirante saltino un basso la prima madonna c'è il suo ban abbandonare vari tra i due di loro di live diciamo che c'è di loro no san san Metti Christian Stasi, tu staccato Christian Stasi, metti Christian Stasi live e ti entro io. Comunque non so come cambiare il nome, davvero me lo puoi dire. Perchè entrate in questa, mc, mc ragazzi, no no no, mettiamo questa, mc ragazzi, no no, mettiamo questo, mc ragazzi, no, bravo, non mi piace, bravo, non so che cos'è, te ne faccio entra, non mi piace. Vai nini non mi piace, vabbè, vabbè nia, guarda, la giura, non mi piace, ora, non mi piace proprio. a vincere non ti metti un microfono in bocca tra i suoi pensati microfono e a basso un pochino mc si si era fatto che fosse tu ok ma chiesa che non lo ho messo la raga vi facciamo 5 seranno di questa volta e poi ci facciamo la box ora le facciamo facciamo più tardi box comunque raga mettete pronti o comunque 46 minuti di pura live stiamo sempre nella stessa cosa la vera nidi presciatti non vogliamo ma la posso cerchierare a questo dall'arco si mette le vogliono la sua tirare il set e guarda valgono le conno raga o i vari non valgono le coloro va uscita la vera non uscite lasciato è uscito a pesca bell'ultimo per non uscire quando devo a dire ci provo a cerchierare perché ma pensavo a chiesto fermo ha capito che ci ha detto veloce chi lo aspetta l'impostazione ma da ogni modo di esistere la vostra cedro perché c'era un marchio dove ci vuole un pochino fa bella bro inserato quello ok potete sperare e ci manca un pochino di venire lo spero ma chi ha perso raga fra di voi qui stai morto bello bello belli 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 frana pro c'è chi l'ha non so qua per te però è blind e diritti e chiedete bene di sviluppo tu vai fatti se vuoi perché passi la ciappola con la faccia bua quelle reti perché si muove sempre ma appena cazzo tu sei venuto fin ma mi sta andando il mio compagno di tre ore e diveni no no non mi invita tanti valio no perché non voglio vado vado anche cerchi da me vado anche c'è lì vero maia così guarda che stavo troppo assai con me con cerchina guarda aspetta non mi ho sparato l'altro pesce hai fatto una cosa ah boh non mi ho sparato ragazzi amore ragazzi il mio compagno relation ah uuuuh 132 uuuuh rovanni stavo grattando non potevo muovermi ehm mi scusa è buona ciao beppe beppe ti puoi lasciare like e iscriviti al canale al canadino al canadino eh che giannino ah ma come è? io a chi veda vedo vedo chi veda il cecchino vedo ragazzi e ti cecchino a te wow bello è piaciuto è piaciuto la verità mi è piaciuto questa è una bellissima cecchidata la verità vieni 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 chi che vieni bello dove stai guardi se lo serve a chi lo vuole andovi come fanno di vedi ecco lì ma sta accorto però sui scelmi spalle un bacio sui scelto sui spalle buon stato cercherato vuole cerchierate a bravo cosa dice su questo faccio lì quelli lì che abita sempre ferro e macchini se c'è tutto cacchio sta giochierando vado spesso a parte sai c'è c'è il pico scopo ma se pura l'ultimo attu ma raga lo so più sciacchierare di mille ha detto andiamo a dire parola c'è un po che ho capito no però dove sei col cerco fatti vedere fatti vedere quel cerchino e mi stai mirando e sono io e di nibi e chi vuoi mmmm Yeah... Quattro Mostro Perchè sta? Indima come la chiudà ci ora iso? Uvà c'è dura qui in l'està E proprio anche la chiudemoti Devo che da tre mesi, io da una settimana e mezzo ma se cosa del mese miti e doveva dare inizio di quante ho fatto vado al giubro e vuoi sapere ma lo so ecco l'esempio se l'ha detto passo poco poco sotto di te tu so se la quasi dai due mesi è da no non da 2.000 per fatto perché inizia 42 mesi o tra babà così mi ricordo come si fosse ieri non giocare ha detto beppa che giochi da tre mesi ma che tu sapete tutti i bruvi dicono che giochi da te nemmeno che sai la vera adesso non ammettino caccia bella gavi e ora i vieni giù e sto facendo una gara con il mio amico e cecchini vince lui ora sei zitto perché il carrile sempre con cecchino tra e la balle da bea cecchino sono un segno che sta allenando un po che tutto ora basciato la gara che è giusto febbi a chi l'anno chi lo vanno le mobili ma penso di nuovo poi la risposta di sciare ragazzi i bimbi si tossono adesso poi stai facendo cadere ovviamente e dovrebbe usare a te si è un'altra cosa non ho fatto per dire a bimbi bimbi nooo a loro il mare 1 b 1 guarda forse due mesi cosa forse la testiera quando mai perché vuole capito sull'arteggiare ma chi sei no no per pochissimo c'è meglio non c'è chi lo vado a via la cosa certo ma che è stato un altro basso giochino ragazzi bambini passano perché io voglio essere vogliono essere più forte del mondo con il cecchino il livello di dalle verità sicuramente quello è uscito giù di cosa fa ora ha detto e pepe che tu sei giocando tutta quarantena io che vuole sapere che io non lo conosco si proprio ma non mi conosce sarà usciuto l'antiusa solo dove da questo questo tanto comunque poi ho finito di giocare da una settimana io ripreso tre giorni fa è più o ma io ho giocato una settimana in tre giorni pone da una settimana in tre giorni non mi sono questo c'è tutto la risposta l'ultima tutto posta la posta calma ma come è fatto a mettere la sicurezza della coppia? ma come si chiama? no no e le quali sono? 50 ah, tu sai cosa c'erano con me? oh non sei da me ma ma tu allora la scuola che siamo diretta eh? sono queste diretti eh? sono diretta non dici che guarda due persone no 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 fatti dai che siamo da un min da un'ora e un minuto in live sta troppo in attenzione ma le persone cecchino attenzione e vai amore ma che buono a fare con cui ecco giù bastardo bastardo ha detto peppa che se facciamo uno più uno ti batto ha detto peppa che facciamo uno più uno ti batto e tu non fischi in basso e capisci in alto dove state qua stanno fettando proprio in attizio ma stanno fettando proprio in attizio stanno fettando proprio in attizio ma stanno fettando c'era la tex che ha passato la c'era forse chissà quella sì c'è via questo che vuole vincenzo non c'erano più capisci a vincenzo io non mi trovo ragazzi potete terminare la la partita la eleviamo che siamo botte di più guarda c'è la 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 bella guarda ora ti voglio voglio gg 200 tic 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 tad tic tic c c tocco tic tic ma urine via tanta 20 ha un b ci trovare io chiedo che non urla cresci la testa ora potete determinare che abbiato io l'ho avviato è terminato poi lo rifacciamo facciamo perchè li hanno battuto di birra la rossa ma lucca in tre ore io sono in diretta sopra youtube sono in diretta sopra youtube togli una diretta e io una fornette guarda 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 cecchino va bene aspetta bro sai un attimo per muoio di quanto levo questo cecchino ma fa un culo gli abbrose in mente 85 bravo non ducete parole 85 porco dio cosicché fa un pochino dai non costruiro non mi non perchè non ti costruisco io si no perchè ti voglio cecchinare bimba va bene cecchino hop hop ah ci si perciò ci si ovviamente va bene 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 esci la testolina su oh vada va bene ma dove stava visto dove voglio va bene va bene va bene va bene mamma mamma mia bella bella giocchiata che si sfida russa ha cosicci giocchi bella hai metà non ma io non c'è builder non 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 vincenzo sicura ma ho visto che c'è 68 di vita non c'è non cura ma c'è la scuola il cecchino il cecchino il cecchino solo vabbè alla c'è bella come ha detto eric è fatto qua ma la luce e non vincere sicuramente non ha deciso chi io vado giocare vabbè da vicino non faccio faccio che c'è un po' di vita ma vediamo controllo ci stai se ti faccio di scelta e ciò che da uscire questo di poter da da serebriare c'è che avessi qualche ip aspetta provo mi vediamo ok tipo dove sei pronto vedi 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 i simborti vedi vedi quale in commenti e varietti la game e e vede che vedi vedi cosa resta diventare basi faccia inserita perché che è un malo a buchero di fasciano che ha di scelta vicino agitata verso bisogno di usare il cerchio da vicino veloce a sovralli sovralli no madonna ragazzi chi vuole vedere il fight ah no no vabbè ho capito che c'è questo ma non ci faccio schifo vabbè che ci faccio la paura non ho capito no è lì ma questo dice il falò però io mi farò ma che non è vale eh sì tu io che cosa il falò ah c'è falò fra come non mi prendi a curare il mio falò non intendo il falò ci vuole giustare l'occhio non è bene non è bene giura 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 ma ne ci sanno solo c'è argomento mezzo sanno solo salita raga 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 mi sta vedendo la vibe mi sta vedendo la vibe oh ok sei sotto i due libri oh 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 ok 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 oh oh raga ho avuto la live ok io non ho tempo non ho tenuto la live no 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 per notte raga sento sento hai avuto la live si per disattivare se non sento niente che sai c'è che tieni fai eco fai eco fai eco fai 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 io non lo sento più ho disattivato oh sei tu non c'è io si fra me non ce la leggo speriamo vi agli buce realtà no no che non è la live fai un po' di rumore con le buce e in live quanti ne siamo come ero rimasto dagli amici pari su è arrivo io si è trovato così poi ti ho mandato la richiesta mi è uscito eh cpc eh si lo so vai io te l'ho mandato amico non 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 ora giochi ok ora ora che è l'attività cosa che ti nascondi io mi spiega scusare con lui che non sei l'afficciato di imparare grazie a uscire di lasciare sempre il dopo di canto anno i di paolo e labbra un poco fai dare con questo il cerchino è già alcuni è visto che il passo fa è solo io ora guarda tornare da lì rompino per letto e venire nel mio è vero il faccio di costruire faccio anche sa dietro di te gli dici le cose bestia scatenata voglio anche mettere il microfono guarda adesso questo è non lo so ma io mi stai abbinando quasi a riuscire dei fattori o ma destani mi scudano per gli arezi mi direi da rete di scuola a dire a me la rete a tutti di volo io ti ho detto non c'è a città di scuola tira a me la rete a cittadini il mare ma la neve facili voli suoi che stai qua ribadette palla la gama fine al webinacchiero potete stare 2 allora luna e mezza passava ancora in diretta ma proprio posso stare... un'ora di su un'altra ora allora la 12 ammazza allora ti stacco alle 12 ammazza a che ora stacco? non so se posso perchè devono avere i passi di struttura dipende a che ora stacco stacchi verso mezzanotte, presto, vedo un sacco tutto eh no no no, io stacco fanno stacchi tutto ora... adesso che sarà tutto quando se ne vanno tutti anche se... ora la live l'ho fatta tanto così... accortami, quanto vuoi stare in live? senza organizzarmi, ci siamo ancora qui poi la piatta che ci organizziamo verso le 4 4 metto la live e tutti i campi e ce ne siamo molte di più che vuoi fare un erro? 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 che la mia prima noi no è in più caldo ma so stiagato con chi sa che mi sono salato l'artezza con l'applauso a fare delle salatezza a 22 ok uno e due l'ho fatto grazie grazie oh che cosa state facendo sto facendo che sono da questo che il cecchino sfidato france 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 abbastanza che volete voluto oi ma faccio un po schifo con la mira coltello per già rischi di troppo posta è buco bella buco eh vai gli condividi oh iscriviti e metti like vai che è scritto la sua ma un po' ne ho già bevole scritto no ma saranno i miei fare a piccone è brutta è bella è già iscritta al canale oh è vari è varico pepe se poi mandacelo pure a pan oh no no ora sai se sai la puscia no non ci vedo vedo la struttura non ci credo e poi ma secondo me solo per fare piccone e questo qua è il vincenzo antonio mobile ciao antonio iscriviti al canale e metti like è il risco il salone è veramente il chocobalito cosa? il chocobalito comunque dal liceo battito il salone addirittura è dipende cosa? faccio un bel 200 che ne dici? ma tu vuoi essere un povero? ma vado a notare un muro un povero ma ora non più e no perchè ora mia madre ha deciso così di aprire il bel cuore ma io non ci soffietano tutto ok però se l'immettiva non ti voglio uccidere ma non ci voglio uccidere ma non ti voglio uccidere ma io salva Sì, vado io. Qual è questo? Vincenziro! Vincenziro gol! State zitti! Che ragazza? Mettere! Prenda saline! Poi c'è giusto! Povero c'è giusto! Giuseppe, iscriviti al canale e metti like! E io vado a portare il muore ecco! Oddio! Glipp, glipp! Che l'hai fatto? Guarda, aspetti che è stato dicendo, c'è questo! Ma l'hai fatto l'hai chile con il cecchino, cecchino eh! A volo! C'è questo, vedi? Eh, questo! Eh, quando? Chi ce l'hai fatta? Eh, sono in pubblico! Ma che mirino? Che mirino l'hai fatto? Esa! Eh? Io l'ho fatta senza mirino! Ho fatto... Eh... Spacca! Spacca! Lab! Io l'ho fatta senza mirino! Spacca! 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 No! Ah, ok! allora dove è stato davanti a te io sono giusta è sempre pure su instagram video di iscrivervi se vuoi eh se vuoi anche la prima no per forza raga raga l'ha così tanto che madonna oh ma non c'è oh ma non c'è lo sai ma ma non c'è ma ma non c'è ave pure mirate è una ricerca è una ricerca la lucida del massa per il suo di vita è una città cosa c'è la testa da fuori se tu non ti fai vedere io non so dove sei se io non so dove sei non ti posso far vedere quanto sono forte ora mi hai fatto ridere ecco si fa stavoli e ma come lo so curato ho scelto di farvi anche devi dire che si è scarso sì ritornare così forte abbastava vero stile ciò solo ha detto niente ma non capisco eva visto dove date un mese non ho messo un gioco più tanto duro scusa o per culo questo che c'è a me no ecco una scelta infortuna e portano che è fortuna e tutti piante di buca ma ti vuoi stare in sottotitoli tutti la banana la gara gara da un video faccio la saggia dei bambini si dottano in line che puoi fare vabbè la c'è la c'è la nuova guardia poco ea papà e perché senti pazzi naga un giorno faccio dei video facciamo delle ciali e va bene e poi chi può parlare della pesca bello fatto spacca stacca stacca da vicino a me non devi fa niente prova perché non ma una volta che le stavano live da un'ora e mezza l'ora e venti secondi ma l'ora e vado sai lì c'erano sace in cielo sace la buona che cosa è quasi stato riuscito detto la buona io so se non ha mai detto un certo corrispondente letto del gioco cosa dite si lo sa di si lo sa di tutto ora carava la devo se ci riesco faccio un video i due bambini dei bambini dei miei amici si d'ossano e perché vogliono essere il king del circo non riesco a fare troppo difficile ci vuole ali per timbara giovani del circo dai suoi ali due o tre mesi ci vuole non so se mi ha fatto la clip io non me la prendo o se non me la posso bispare dai però non so eh se eh me lo metto eh si si posso si è piaciuto ti ho rubato la kill ragazzo hai sbagliato qui ragazzo alle sette e mezza mi sveglio ma perché dove devi andare dove se mi posso prendere il gommo di quale gommone è un gommo ah però stanno un pochino in acqua si ah capito capito è perfetto non ti fare un pochino fare questo oh beccati sull'attezza oh sei l'attezza tu si è l'attezza tu no ha detto oh ha detto di sull'attezza hai detto di sull'attezza no ha detto di sull'attezza no c'entra no c'entra no c'entra perché tu mi vieni tutti qua voi non sei boxato mi prendi ah mi sfumo io è vero no dillo tu è vero ok vedi ma non sei adesso a basso tu non si vuoi si sto qua tu mi prendi però se sei forte fareste l'attezza di in basso qua ma che sto dicendo ah non ci sono fatto io ho usato sui basso ma è stato certo e se è bene fare che io tu sei no basta 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 non ci credo non ci voglio aspettare non ci voglio aspettare perché non ci voglio aspettare da fare solo questo io ho detto vincenzo vincenzo secondo me è meglio che ti compri una nuova playstation quale che la lintana switch è se da c'erano a gioco 10 e non è la sua zona e meglio non si faccia un patrino all'interno di e facendo 60 poi no mi ballo oltre me ne vado ciao raga ciao ciao ci vediamo domani ciao ciao la prossima raga sarebbe domani sarebbe no o bravo ma già non ti stacchiamo va bene bravo abbandona abbandona un attimo andiamo a fare del box riu più gente a casa ok 3 spettatori bro 3 spettatori bro vediamo Antonio Amabile, Giuseppe e Luigi ma che cosa? Giuseppe e Luigi scrivete tutti quelli che stanno in chat eh abbiamo due ora no due secondo te si sono andato dati no buono lo so no buono lo so no buono lo so guarda dite si sta in live guarda dite si sta in live stanno facendo roba stanno facendo roba stanno facendo roba bro leva la live oh vai se la vuoi mettere basso tutta la vision ok ok scrivete scrivete vieni qua mettiamo sta sta no ma si vede una cosa in alto a sinistra nella live vieni qua red dov'è stasso blu eh ma non c'è nessuno in questa live oh ci stanno due tizi ci li mangiamo oh quattro persone io li ho condiviso su Insta bravo ok bravissimo ma bro speriamo che io vado con te che con questi siiii siiii vediamo che qui ci mangiano però se stanno se prendono si bro si ma se io metto ma se è la play che mangia chi 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 no a me a me a me mi serve solo il famas eccolo po' un po' facile eh a po' puoi stare su cosa scusa io non me lo bevo ora non c'è te ricaricare non lo so io speriamo che aqui non sono con le hacke dove stanno ma dove stanno ecco le io vedo vedi passi ora non li vedo ecco le acco lì provate se me la sconella la dietro del sangue ho notato a me non credo che cosa fa una top 30 perché c'è un tizio là è un tizio là delle cose ma che c'è un po', vuoi sapere che c'è freddo? è ma non mi ha fatto, è ma se ne è andato oh ora mi ha lanciato un po' io ho fatto 132 comunque e poi prendete quello di sopra ecco rigenerati e ho fatto il genio e non ho fatto torno al centro ma forse ho fatto torno al centro non so se ora posso e ora sono i blu aspetta la dita torno al centro bro aspetta torno al centro questo non mi piace non mi fai impazzire eh no però stai insieme eh no va bene ok ragazzi scrivete tutti che stanno portando la live tutti 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 dire ciao di siete di siete di siete che stanno le armi ma anche cosa ti sei mangiato bro ma se li sono mangiato no eh mi spavano ma stanno tutti contro di noi no veramente non ti ero manquari no ma che cazzo voglio come vedi a di ma che cosa è fatto il pad che cosa distrugga ma che mamma mi faccio vedere lava tutto lava tutto il cavallero della stagione è il più scasso di mio fratello 50 volte quando muore questo 60 e 54 anzi da doveva facendo 54 e 30 però ma ci stanno due delle stesse sono mazza chi vedi io ti ho visto dietro ho fatto uno che ho fatto 100 sono due squadre a me tutti i due contro di me cosa no boh ora si stanno un pochino sparando 120 eccomi eccomi scusa i vari volevo sparare a lui però te lo giuro perché va bene non è perché volevo sparare a lui dove sparare a te vabbè io non so chi sei ora sono io io sono dietro di te io 63 63 63 63 ah broma di tu no no hai ammazzato ah ma tu sei senza il cosa dietro no no questo cavalliere mi ha rotto le bocce falla falla non esponiamo e poi ci fai a madre quante di loro sono che mi stanno tutti quanti mi vogliono molto ma nessuno mi ammazza sì no tutti mi vogliono molto ma nessuno mi ammazza sì io però io aspetti ho poi li via un po' eh non te ne danno 198 mi hanno fatto? next up i ragazze ho ammazzato no, io odio il cavalliere blu no, no sono io, sono io no, sono io no, sono da dietro però credo che prendi la tua amica non bruci la tua no, ho fatto blu ho fatto blu si stanno svegli con la tua skin io non capisco come no, ho fatto è preso incontro sempre con quello che non c'è di questo si, si, si quello che già ho fatto è anche a Gicchiano eh, sa ti ho qualche cosa mi ha detto c'è vita se mi è tuite di che si vuole giocare lì eh, ma ticcio là da poco no 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 mi da mi da mi da mi da ammettato a vedere blu un boccino fammi ammettato pure un altro credo quello più forte io ho tornato a vedere oh oro cavallero ammettato forci tutti pro ok 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 perché mi confondo no ho deciso mi da oh dove ammettato no cavallero cavallero io del cavallero e mi da eh puri diciamo che tanto sei però c'è io dietro di te si lo so se poi spacca tutto no che è terminato no che coglioni avviato 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 a tutti e due pure io a me è avviato sì l'ho avviato io facciamo che morite tutti eh ok ho preso tutto ho preso oh mi da 220 quanto godo quanto c'è stato lo scelto io ho tolto lo scelto io ho tolto lo scelto a uno bro eh è stato a me questo qua però eh lo fa matta 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 no bro ora tengo vita davanti alle bolle no è un ucciso davanti ai miei rock anche se volete giocare con noi ditecelo e vi facciamo giocare al 200 no 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 allora però questo qua se volete spammare vedete se mi viene la minima what 110 a uno no a uno che ho fatto 110 dove ti puoi terminare eh sì lo posso terminare ok l'ho inviato tu no 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 però non prendere la minima non sono tutti quanti la prendono no vabbè la prendono vabbè la prendono in troppo a che se dovevo eh sì c'era una zanzatina una come ti chiamo quella una zanzatina una zanzatina oh uno ha fatto 198 200 madonna 220 110 ammazzato pure ho fatto 200 di 200 di filo uno sta dentro uno sta qua controverti distruggi tutto distruggi tutto adesso sopra una ufficio distruggo ecco di giù no 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 sembra che avevo l'atomica bro questo ancora mi sta cercato dal spawn però non ci stanno più spettatori sono io boh 220 sei io sei io si lo so ciò ma te passo bro ma io sto facendo già il te passo è un'altra cosa uno ho fatto 22 stanno due quagli non si sparano bravo mi devi dare una manina eh bravo ok senti sui senti sui 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 no ha fatto 200 credo ma non so proprio vendito vendito un cazzo 110 100 ma non mi ha dato una amica 110 a 1 200 110 110 amido 110 amido 77 amido 70 per questo video aiuto no no ma devo restare facendo un pochino di bassino io meglio poi questa cosa è blu allena 151 no sono abbandonato 76 33 no no ma io credo che io lo sai che ti io i do ecco giro no i do ammazzato ooo con la nata capito capito andiamo in pieno 143 stanno a duella non so non me la prendo però c'è un abetto proprio robbo no bro bro tu devi fa male no bro dietro sto sfumando tutto ma che cosa 110 ammazzato a quella la che ti ammazzato 110 no proprio quando io voglio bene aiuto 220 aiuto mi ha detto 34 no no è morto eh si va bene ma questo fanno troppo con la... con lo scarla oh ma che è? vabbè tu stai riprendendo? bro dove stai? qua dove? che era come cappa freddo ma cosa fa che lo schifo? infatti questo lo schifo perfetto eh 36 bro che stai bloccando morto ok 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 stavo venendo con la fama no sei in obberto? no il nabbetto sta con noi il nabbetto sta con noi no bro non ti fiderei mai dei nabbetto ha ammazzato quello porto un altro quello che lo schifiamo come lo possiamo dire quello che schifiamo che schifiamo che cosa? quello la come si chiama? quello la come si chiama? quello la nf nfk dc è morto è morto è questa qua che lo vedo ammazzato pure tu lo schifi ah si vanno lì e lo chiamiamo quello la che se è da me quello la che lo schifiamo vai vai mi ci serve no bro mi serve a me il nabbetto che poi è morto proiettendoci in contatto di vita che ha ammazzato in abbetto? aiutami che quello che lo schifo qua c'è il mida da bianco boh il mida non è così tanto forte più o meno è la tua capace eh forza vai 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 di sotto tutto pensa che il mida ammazzò il cosa da nobba ammazzò il mida eccomi eccomi vado giù la mida nooo ho fatto 200 oh mamma no ecco ti vengo c'è mida c'è mida da te 168 178 tanto dice quello che schifiamo io gli ho fatto 178 questo qua peccato quante kill hai? comunque era zio io 17 kill sono il secondo però me sto facendo solo 200 ho migliorato un botto ma no ma no quello l'hanno a botto dove sta qua che odio sta qua eh e quanta gente quanta gente nooo tiene il combat ma no e madonna dove sta qua con il combat ma dai ma dai che non ti sento il bò dai dietro dai dietro dai dietro dai dietro dai dietro io ne ho fatto faccia dai io però ho detto che quella chissina è bum 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 ma ha ammazzato ha ammazzato combà va quello che fai è troppo bene ora è un abbetto mio no ecco ti ho visto sparmiamolo sento no no sono morto 110 eh no ma no spavolo spavolo è troppo corto cosa però lo stanno sparmando un botto vengo vengo ma che fa un carino no mi sembra che era un atomico madonna mia per proprio proprio mi deve dare una manina sarei piccolo guarda quello là la c'è me mi da tengo 3 di vita no non ho questo vado veramente in giusto in giusto in giusto è bello che costruisce solo 25 bianco eh io ho fatto anche 30 se io 154 parto mi da vengo vengo da te 110 io ma questo qua fa lo scuro imperfettibile che mi da ne ha vengo da te vengo da te quale vengo da te arrivo vengo da te però non è stato scritto vedete quando stiamo in onda da due ore e quattro minuti o ma non fanno male di mani madonna no c'è un mito con la minica morto è morto io tanto tengo la minica morto è uno c'è quella che scrivo no c'è quella che scrivo più mito da me perfettissimo questa cosa vediamo morta è morta professore io qua da te andiamo pochissima vita professore da te andiamo pochissima vita minima no cazzo se ne ride no madonna su cento cose cento cose 110 madonna lo sca... 178 faccia piccola no vieni brutto è arrivato di vita no no che cazzo ho fatto l'ho arrivato con la minica è morto in pratica non è vero bromido io ho fatto 100 10 e 77 morto? allora io ho fatto 117 se ne se ne 22 1 110 già io faccio solo 110 è vero bromido è morto è morto è morto è morto 200 venti pratica ho fatto 198 e 220 eccolo qua quello che scriviamo 46 46 ammazzato 47 è quello che odiamo 220 è quello che odiamo forse un altro no bro io ora spawno pure io qua così come ammazzano no no mi servono cura ti copro ti copro c'è uno qua ah vai 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 guarda questo qua è quello che odiamo si lo so modifica modifica qua dove è oh qui stavo così qua e qua non lo sapevo oh bro è uscito oh bro ma mi faccio mettere paura vado con la mini mini mi stanno sfumando ammazzato 10 di vita io avevo due io avevo due di vita c'è uno dietro 56 no 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 questo non questo c'è uno dietro io avevo due di vita che tengo 10 di vita è proprio il più forte ci cavia quando la doiamo eh 33 non sembra uscito deve vergognarsi per tutta la vita mi da mi no mi do io ho fatto 110 46 mi do eh la do no 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 minican bro scusate questo qua si deve vergognare l'ho fatto quando teniamo 10 di vita ma chi è quello la doiamo eccolo eh ma scattate ma è chiuso no bro ma what provo a cadere tutto eh non posso sono morto eh ora ora posso ora posso quanto è in questo qui è in questo è un po' è un po' Che cosa ti fa? Che cosa ti fa? E' un po' di loro No, che cosa si che c'è? Sì, c'è un po' di loro Non ci vedo, è una attona Non ci vedo, è un po' di loro Non ci vedo Niente Non ci vedo a metà la mira a metà la mira a metà la mira a mira bloccato a mira lo bloccato mi da ammazzata ammazzato madre salve mia 28 e 29 madre io ho più kg di te c'è uno che costisce solo parlo così ma che ho messo ammazzato c'è mica madonna mica con la minicon 1800 mi vuoi tradivisa 100 ho preso l'ammazzo questo qua che lui tenava 100 100 io 47 ma l'ammazzo per voglio no l'ammazzato pure a me brodi mi diventa è 10 minuti 100 minuti ho preso la mira con la minica 111 110 ammazzato ma chi sono 110 di fiammida no oh ma Ah, cazzo! Listo, basta! Listo, scusate su spagno dentro di Lorenzo! Venite con luce, basta! El luce! Basta! Voi! Eh, sì! Ciao! Ciao! No, posso! Chilias! Troc! Non c'osso mi, eh? Non c'osso! Non c'osso! Oh! Non c'osso! No! 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 ciao a tutti ragazzi ci vediamo una prossima volta o siamo domani ciao